Qualche impianto Sì, tutto è possibile Perfino credere Che possa esistere Un mondo migliore Allora, ben ritrovati per una nuova puntata di Un mondo migliore In questo mese cambia location, però stesso format Ci troviamo al Roadhouse di Foggia E con una band O meglio, due rappresentanti di una band Parlo di Rocky Horror Siamo diversi, siamo noi Siamo diversi, sì, da voi Siamo quello che facciamo Ed è in questo che crediamo Ho parlato, ho raccontato di voi sul giornale Poiché è uscito il nuovo album O meglio, Un Salto nel Buio Ci vuoi parlare di questa nuova produzione discografica? Anche da chi è prodotto e da chi è distribuito? Sì, questo è il nostro nuovo album Il terzo album ufficiale È uscito per l'etichetta Irma Record Che è un'etichetta molto importante italiana Ed è distribuito nei negozi da self-distribuzione All'interno ci sono tante collaborazioni Di tanti grandi artisti che abbiamo conosciuto Nell'arco della nostra carriera Perché infatti noi quest'anno festeggiamo I 15 anni di attività Infatti nel singolo c'è stato ESA Che è una colonna portante dell'hip hop italiano Ma poi tanti tanti altri grandi artisti Antonio, 15 anni di carriera Cos'è cambiato dall'inizio ad oggi? Anche dal punto di vista di scrittura, di sound Qual è stata l'evoluzione della band? Allora, diciamo che abbiamo macinato sicuramente molti chilometri Quindi abbiamo suonato praticamente dappertutto in Italia E anche in Svizzera Quindi diciamo l'esperienza live ci ha segnato Sia a livello musicale che anche a livello umano E naturalmente queste influenze Sono comunque anche, si sono diciamo Si sono come dire Riflettute nella nostra musica Per quest'album qua sicuramente la scrittura è maturata notevolmente Rispetto allo scorso album Che ricordiamo era sciogli il tempo Quindi abbiamo voluto sperimentare nuove sonorità Con nuovi strumenti e nuovi featuring ovviamente Perché i nostri album, ricordiamo, sono sempre ricchi di ospiti Tra l'altro molti ospiti conosciuti anche dal vivo Suonandoci insieme, quindi on the road In collaborazione anche passata con Pino Scotto Esattamente Da cui abbiamo fatto anche un tour E un pezzo di beneficenza Ed era comunque presente nello scorso album su un pezzo Come ti dicevo Diciamo la scrittura ha risentito di un livello sicuramente maggiore di maturità Questo lo possiamo dire Sicuramente E quindi anche l'introduzione di nuovi strumenti e nuove sonorità Per esempio beat, campionature, piuttosto che fiati Sicuramente ha fatto sì che quest'album sia un album più ricco Dal punto di vista strumentale E probabilmente anche dei testi Come ti può confermare Giovanni Parlando proprio di testi e quindi rimanendo sui brani C'è un brano che magari attira di più? Quindi coinvolge di più il pubblico? Beh sicuramente siamo noi Siamo noi che è stato il singolo che ha anticipato l'uscita di questo album È un brano che è un po' un inno a chi vive la propria vita in modo diverso Ecco fuori dagli schemi prestabiliti C'è il featuring che dicevo prima di Esa È del chitarrista dei rumor nero Ettore Carloni Che è una band rock in grande ascesa nel panorama italiano E ha una sonorità molto accattivante Comunque diciamo anche noi abbiamo sempre avuto questa idea Di non fare mai dei brani riempitivi Cioè per arrivare a un certo numero Ogni brano presente nei nostri dischi è un potenziale singolo Nel senso che noi lo curiamo con la massima qualità Cerchiamo di dare tutto in ogni brano Perfetto, quali saranno i prossimi appuntamenti dei Rocky Horror? Cioè chi vi segue dove può trovarvi a ascoltare il vostro ultimo album? Sì allora voglio ricordare tutti che avremo proprio una Relay Sparti Nel giorno 22 dicembre al Groove Lì sarà una grande festa in cui presenteremo un salto nel buio Ci saranno molti amici, molti ospiti Quindi siete tutti invitati a partecipare a questo evento Poi stiamo organizzando per l'anno prossimo un tour Che probabilmente inizierà dall'inizio dell'anno Però vi sveleremo le date magari più avanti Facciamo un gioco Un gioco che io spesso faccio fare agli ospiti di Un Mondo Migliore Chiudi gli occhi Immagina di scegliere un artista magari anche del tuo stesso mondo musicale Oppure magari di tutt'altro Con quale ti piacerebbe magari duettare oppure coinvolgere in un progetto di rookie horror? Beh ok allora ma guarda ti dico abbiamo fatto davvero tante collaborazioni Ci siamo levati tanti sfizi Indubbiamente è una band che accomuna anche i gusti di Antonio Perché ne parliamo spesso Sono i Casino Royale Che sono una band che ci ha molto ispirato Sin dalla nascita del nostro gruppo Quindi sarebbe molto bello riuscire un giorno a collaborare con loro Con il cantante Ali Osha O comunque altri membri della band Magari in un prossimo futuro L'album è disponibile sia in copia fisica che in copia digitale in tutti i digital store Quindi io ringrazio Ah tra l'altro prima di chiudere Volete salutare i vostri compagni quindi il resto della band? No Fantastica Quindi risposta se No scherzo Vabbè salutiamo il batterista Joy e Francesco il bassista Perfetto Allora io ringrazio i rookie horror e la rappresentanza Ovvero Giovanni e Antonio per essere stati qui con noi Per una nuova puntata di Un Mondo Migliore Ringrazio la location in Roadhouse E io vi do appuntamento alla prossima puntata 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 E io vi do appuntamento alla prossima puntata